Presidente Blangiardo, quest'anno il titolo del festival è Il mondo che verrà, idee e misure per ripartire. Perché? Perché la conoscenza e la conoscenza statistica in quanto conoscenza oggettiva rappresenta la premessa indispensabile quando si devono affrontare situazioni nuove, problematiche come quelle che abbiamo vissuto. Allora se vogliamo riprenderci, se vogliamo rilanciarci, se vogliamo proseguire nonostante tutto io credo che da questa esperienza possiamo ricavare delle indicazioni, delle informazioni, dei metodi attraverso i quali muoverci e cercare di riuscire a tornare come prima e forse direi anche meglio di prima.